benvenuti in questo nuovo video oggi andrò a fare la frittata con la borragine andiamo a fare la torta con la borragine e la borragine e la borragine e la borragine e la borragine borragine pepe parmigiano reggiano otto uova e dell'olio extravergine di oliva andiamo a mettere del sale nell'acqua che bolle e lessiamo la nostra borragine la inseriamo poca per volta dopo 30 secondi inseriamo il resto e la lasciamo cuocere 3-4 minuti quando il gambo è morbido significa che sono pronte la mettiamo in acqua a ghiaccio fermiamo la cottura della borragine così rimarrà bella verde trascorsi due tre minuti in acqua a ghiaccia strizziamo per bene la borragine apriamo le nostre uova mettiamo del sale e grattugiamo del parmigiano infine mettiamo del pepe e andiamo a sbattere le uova e unisco la borragine alle uova metto un cucchiaio di olio e facciamo leggermente scaldare versiamo le uova con la borragine in padella diamo una sistematina e copriamo con un coperchio dopo averla cotta 5 minuti da un lato la giro e facciamo cuocere dall'altro lato per altri 5 minuti grazie a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti. Ora assaggiamola però. È buonissima. Provate a farla a casa. Ci vediamo alla prossima ricetta.